Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video su Dragon Ball Xenoverse 2 Mods, in questo episodio vi ho portato Goku Ultra Istinto, ebbene si ragazzi questa è la nuova forma di Goku che abbiamo potuto vedere, per chi segue l'anime in giapponese ovviamente, ho qui i sottotitoli nello speciale di domenica 8 ottobre, quello di un'ora, le sue mosse sono queste, mi raccomando ragazzi ricordatevi di lasciare un bel like all'episodio per continuare a sostenere la serie, come potete vedere qui lo abbiamo in due versioni, quella che affronta Hit che è questa, e poi abbiamo la prima versione che è col Kaioken con il Super Saiyan Blue, che ovviamente sarà magari la versione che vedremo in seguito nell'anime. Allora andiamo a selezionare la seconda versione e combattiamo contro Jiren. Ragazzi vi è piaciuto lo speciale di domenica? Per chi lo ha visto ovviamente, vabbè mi ha gasato un casino, ve lo assicuro, e non vedo l'ora di vedere il prossimo episodio. Allora, boh, c'ha praticamente la schivata automatica, quindi va bene ci sta con l'ultra istinto, dopo tutto è un po' quello, lo scopo della mia forma, come tecniche buona questa, mamma mia, lo stiamo, no, non siamo riusciti a concluderla, peccato, lo stavamo devastando, ok, super salto esplosivo, poi abbiamo la Kanganana di Rompente e la Sfera Ginkidama, ragazzi. Eh, però, con la schivata automatica siamo ancora, eh già, non possiamo fare le tecniche che vogliamo. Uh, è riuscito a colpirci, mamma mia, ok, andiamo di sfera a Ginkidama, o Ginkidama, come volete chiamarla, bella, mi ha colpito, ok, bella lì, comunque ragazzi, ieri ho cominciato a portare l'ombra della guerra, vi lascerò il link per l'episodio, il primo episodio che dura una mezz'oretta, ovviamente, a mio parere è inutile portare 10 minuti di video, 16 minuti di video, su un gioco del genere, perché merita molto di più. E comunque i primi 15 minuti sono di, di, di dialoghi, di discorsi, di video, quindi non, cioè, non vedete nulla, se no. Quindi ve lo consiglio, vi lascerò, ripeto, il link in descrizione del video, qui sotto, al nostro carissimo Goku Ultra Istinto. Ora andremo a sezionare il primo costume, che sarebbe la forma definita, diciamo, e combattiamo contro Lord Beals, o Beerus. Ok, eccoci qua, cominciamo, uh, un fulano che l'ho fatto con un semplice colpo, uh, bella. Questo ha super attuale explosivo, come l'ex-pubo come il secondo costume, poi ha la potenza e kamehameha, il lampo mirato e l'ultimate charge. L'ultimate charge sembra misterato allo scuro, diciamo, solo con l'aurea bianca. E qui abbiamo, ovviamente, la cosa dell'aurea bianca istinto, cioè l'attivata automazio. Bella! Allora, vediamo se riusciamo a colpire ancora più. Allora, vediamo se... Ok, questa... Che figata, il rumore che fa questa carica. Volevo usare il Kaioken blu, ok, bella lì, bellissimo. Ora, ho finito un per dieci, bello lì, bella, bella, veramente figa sta roba. Ok, ci avviciniamo con... Cado, ci avviciniamo alla esclusione, vediamo se riusciamo a rifarvela. Ok, sei mio, Beelze. Andiamo. Preso in piena e distrutto. Benissimo, ragazzi. Per questo video è tutto, questo era Goku Ultra Istinto. Naturalmente, spero che il video vi sia piaciuto. Ricordatevi di lasciare un bel like per sostenere la serie. Inoltre, se non siete ancora iscritti al canale, ricordatevi di iscrivervi per non perdere nessuno dei prossimi episodi di questa serie. o delle prossime che porterò sul canale. Io vi ringrazio e auguro di voi una buona giornata. Ciao ciao ragazzi, alla prossima!